La naturale vocazione di Libratum è quella di rendersi cura del benessere delle persone. Per Fado è stato ideato un software unico al mondo che ha la capacità di rilevare le frequenze dei vari disturbi ambientali e di informare immediatamente tutte le cellule, da un punto di vista energetico, del nostro corpo. Libratum nasce tanti anni fa in ambulatorio dal fatto che mi accorgevo che molte persone erano continuamente depolarizzate. Depolarizzate significa sempre stanche, nervose, insonni, con i vari disturbi. E allora mi sono chiesto quale poteva essere il comune denominatore che provocava questi disturbi. Attraverso il test S-Drive mi sono accorto che moltissime delle persone avevano un'aggressione o un disturbo di tipo elettromagnetico. E' da lì che ho cominciato a capire e studiare una metodica che aiutasse le persone in modo semplice e economico a mantenersi in equilibrio. E questa è in brevissimo la storia di Libratum.